E' fuori di testa, è uno scherzo! Si può svegliare in qualsiasi momento! Tra due ore, quando i pesticidi scarseggeranno, si sveglierà! Mi hai capito! Voglio dei polimeri antiparassitari. Ce n'è un barattolo, proprio lì dentro. Un contenitore di polimeri PA400. Facciamo saltare in aria la stronza e poi ti prendi quello che vuoi, ok? Ok, ma il barattolo non finirà per distruggersi. Merda! La pompa! La cicuta va spruzzata costantemente! Resta poco PA400! Trova quei contenitori di polimeri! E fallo subito! Ecco fatto. Pausa sigaretta. Ah, il contenitore! Il PA400 è finito! Se non ci inventiamo qualcosa, siamo fregati! Tranquillo, l'ho trovato! Guarda, eccolo là! Hai idea della fatica che ho fatto a portarmelo dietro? Merda! Non così lo l'ucciderà! Dovevi farlo esplodere! Cazzo! E adesso? È sveglia! Dobbiamo dare fuoco ai polimeri! La sigaretta! Incendio i polimeri con le sigarette! Ecco! Sì! Muori, bastarda! Finisce male, ma so... Porca troia, sta impazzendo! È infuriata! Scappiamo prima! Aspetta! Da cazzo! La mia gamba! Ehi, va tutto bene? Sì! È fatta! Merda, i germogli! Alzati presto! La mia gamba è bloccata! Sparagli forte! Ce ne sono troppi! Sbrigati! Ti provo! Se arrivano qui, siamo morti! Posso devi spegnarti di più? Sono quasi qui! Alzati, alzati! Ci sto provando! Ci sto provando! Merda! No, no! Aiuto! Levamelo! Resisti! Sto arrivando! Che bordello! Oh, merda! Il cazzo di baratto! Peggia qualcosa! Beh, che dire! Oh, la! Sì, istante! Cazzo di baratto! Lassami, cazzo! Ah! Così!